Seif tra poco, tra poche ore, compatibilmente con i tempi della burocrazia, uscirà da questo luogo orribile e quando uscirà vi racconterà cosa ha visto qui dentro. Ero con lui fino a poco fa ed ha detto ed ha ringraziato il personale di questa struttura per come è stato trattato ma ha detto anche un'altra cosa, che racconterà quello che ha visto qui dentro perché lui è stato trattato in questa maniera perché era diverso dagli altri, lo vedrete, lo conoscerete e questo deve far riflettere. Nel momento in cui io ero qui e ci sono stata un paio d'ore e ho visto ben due dei cosiddetti ospiti, come li chiamano loro, essere trasportati via dall'ambulanza uno dei due aveva tentato il suicidio, così dicono, e quanti casi ci sono come questo. Ora, tornando al caso in questione, sì, è vero, ho dato questa buona notizia questa ottima notizia, però diciamo la nostra attenzione deve restare altissima perché non sappiamo come lui uscirà da qui ossia se sarà costretto a lasciare il nostro paese nell'arco di pochi giorni oppure se gli verrà restituito il visto.